musica ok vediamo cosa posso fare io adesso subito subito cercate di capire cosa faccio tratti il piatto risposta quello che ho fatto in effetti l'ha anticipato lei ho preso il fiato e ho trattenuto questo è il primo segreto della comunicazione cioè quando siamo in una fase di presa di fiato e di apnea noi abbiamo il controllo del contatto se non avessi applicato questa base energetica io non avrei avuto la possibilità di stabilire con voi un contatto che c'è stato così giocoso, divertente ma non sarebbe stato metodo sarebbe stato fortuito comunque quando succede naturalmente che ci divertiamo l'un l'altro questa cosa accade semplicemente noi dobbiamo osservare la natura e farla diventare un metodo questo è il segreto del metodo senza psicotecnica cioè quando io per qualche motivo mi viene da ridere non è che nella vita sono costretto a ricordare un evento del passato eccetera lì per lì c'è una causa che nel caso dell'attore deve essere una causa scenica che mi deve indurre il buon umore è possibile arrivare a un'emozione senza la psicotecnica è possibile emozionarci senza attingere a memoria del nostro vissuto lo scopriremo subito alzandoci e mettendoci a favore magari di camera cambia la caffè è quello è pronti con la momentina? adesso sembra la foto dei calciatori voi adesso non avendo nessuna indicazione potreste se fossimo ancora di più se ci fosse tanta gente potremmo anche provare un certo imbarazzo di non sapere che stanno a fare in realtà è sufficiente cominciare a giocare con il metodo cioè provate a prendere un respiro trattenete qualche istante mettete le labbra a sorriso e fate uscire una S spingendo solo di pancia adesso vi spiego perché accade questo cosa stiamo facendo il corpo è rilassato quello che noi facciamo è solo uno sforzo addominale per far uscire questa S poiché la S esce meglio quando poniamo le labbra a sorriso tanto vale cominciare a giocare a metterci di buon umore fare in modo che anche gli occhi partecipino a questa iranità ancora un respiro aumentate ancora forza e lasciando il buon umore di affiorare stiamo attivando il secondo cervello addominale cioè non stiamo più qui stiamo lavorando con la parte addominale il secondo cervello è quello che produce le buone endorfine ma anche produce sostanze come adrenalina cortisolo che ci fa essere arrabbiati che ci fa essere rabbiosi che ci carica di energia o ci induce al buon umore questa S se noi la facessimo tutte le mattine anche andando in macchina ci aiuterebbe a gestire la nostra energia e può lavorare anche avere avere a disposizione un'energia di base se dobbiamo affrontare un colloquio di lavoro dobbiamo sottoporciare un esame già semplicemente questo esercizio ci attiva provate ancora trattenete questo semplice esercizio questa tensione addominale può trasformarsi in un'emozione in una qualsiasi emozione perché noi possiamo tradurre lo sforzo fisico in un'emozione affingendo dal nostro archivio io posso prendere un respiro trattenere basta e manifestare questa energia in una sorta di esplosione rabbiosa non c'è causa io non ho dovuto fare una sessione di psicotecnica per trovare una ragione reale nel mio vissuto dove poter ritrovare la rabbia perché quando io per tanti anni ho fatto psicotecnico ho fatto fare psicotecnica l'effetto collaterale è che quando gli allievi gli allievi tornavano a casa erano depressi erano sconfortati perché avevano diato fuori cosa e poi avevano di stare tranquilli dove stavano avete capito quello che ho fatto ho preso il respiro trattendo la fase di apnea è fondamentale è una scoperta che ha fatto anche una famosa neuroscienziata si chiamava è morta da qualche anno Kandai Sperte Kandai Sperte non so se l'avete mai sentito non mi dà e ha scoperto lei lavorava sui dolori pre-parto aveva scoperto che una fase interessante per indurre delle endorfine a rendere più sopportabile il parto era quella in cui la respirazione raggiungeva questo momento di stasi nell'apnea qui nell'apnea c'è un momento magico in cui i neuropeptidi si differenziano ed è questa è una cosa io ho scoperto già da anni in scena semplicemente però ho cercato di confermare che il professor di Mar quello che osservo ha una aspirazione scientifica si ce l'ha nel momento in cui noi prendiamo respiro tratteniamo l'energia quel momento magico di differenziazione ci consente di attingere qualsiasi emozione che è già da sempre nel nostro archivio di memorie emotive perché tutti voi il tuo basta senza apnea è diverso da quello con l'apnea e allora se io dovessi fare basta non facendo caso a come respiro a come applico il metodo viene fuori un qualcosa che sembra un recitato o fasullo o finto la consapevolezza è tutto per rendere riproducibile un evento in questo caso a livello di comunicazione se io dico basta capisco che questo funziona perché in questo momento io sto producendo cortisolo e adrenalina non sto simulando l'emozione l'emozione non si può fingere o la provi o non la provi nel momento in cui io provo l'emozione senza causa nel momento in cui non mi serve più blocco quella sequenza di danni di effetti collaterali negativi che io da sempre osservavo accadere per cui quando ti metto qui quando è che hai sofferto nella tua vita da bambino a mia mamma mi picchiava mi buttava il mio nonno mi buttò dal terzo piano dal seggiolore di sotto poi tutto torni a casa veramente con un disagio che si può evitare questa sorta di differenziazione non serve soltanto all'emozione come la rabbia io posso provate prendere il respiro trattenete il momento e mettetevi il buon uomo senza causa e vi posso dire che però aiuta molto il linguaggio non verbale quindi anche che il corpo deve essere partecipe se io sto così è difficile possa mettermi di buon umore perché è un po' un segno di chiusura anche quello di protezione per cui quando noi siamo rilassati come stiamo rilassiamo la tensione proviamo anche a ridere come stiamo che facciamo a ridere queste cose che fate fatele fatele si chiamano cacco cacco lo sappiamo puoi sapere le cacco le cacco i napoletani è la cosa proprio le cacco i napoletani sono un mosto Pino De Diego esattamente no Pino cioè riprovate se fosse esigenza di una ripresa mettervi di buon umore e farvi vedere che state vivendo riuscireste a farlo curare applicate il metodo se l'avete già capito prendo respiro tengo differenze in buon umore e comincio a dire chiare che non è meglio rendo partecipa anche gli occhi che devono ridere lascio libero il corpo di esprimere questo momento di rarità qualunque cosa va bene anche questo gioco che fate subito è vero fungeranno non ti va poter ho differenziato in attenzione funziona funziona facciamo una sequenza facciamo una sequenza di emozioni e poi vi faccio subito recitare sì sì lego semplicemente perché ho bisogno di fare la stessa sequenza di emozioni e poi noi andremo ad applicare su una cosa che leggerete però la leggerete sicuramente bene o c'è o non vabbè allora aiutatevi anche con il corpo nel senso che se sentite che l'emozione vi chiede chiusura no chiudetemi se dovete essere pensierosi aiutatemi anche con la gestualità allora prendete un respiro trattenete e vi chiedo di tenere un'eccitazione però alle grotta è qualcosa che è un po' di peste poi si vedrà è una cosa un po' piccante che uno ricorda ma non serve l'oggetto però è lavorata di tensione addominale è tutta lì la comunicazione non mollate mai la tensione addominale se mollate la tensione addominale uscite dal gioco invece i grandi comunicatori nel momento che entra una scena stanno in tensione fino alla fine anche se fanno le pause quella di prima quella di prima era una pausa ma io non avrei potuto gestirla se non fosse rimasta costantemente in tensione è vero che dopo un po' respiro adesso sto in apnea c'è 10 o 2 ore respiro però su dei polmoni sempre cari e su una tensione terminale sempre presente quindi un po' di eccitazione così mi raccomando che già da un po' che ti vedo così non mi fa tutte le emozioni ma no perché ti paga le parti basse che posso e non si sa mai cosa scatta un respiro trattenente differenziati in nostalgia è un sentimento di qualcosa che sicuramente abbiamo vissuto nel passato di qualcosa di bello quindi la aiuterei con un sorriso un po' qualche respiro con le parti cioè per l'esperienza giocate giocate senza una causa reale però l'idea è quella di qualcosa che abbiamo avuto modo di vivere di sperimentare la nostra vita è che bello ci ha lasciato un buon ricordo che bello fosse se fosse possibile recuperare quella cosa però avete vissuto per questo c'è il sorriso prendete un respiro trattenete differenziamo in rimpianto in questo caso l'accezione è negativa perché qualcosa che avremmo voluto forse fare ma lo abbiamo ahimè trovato il coraggio di fare in questo caso aiutatevi anche con delle sporcature è quello che fa l'attore se doveste avere un primo piano in questo momento come potreste mantenere la tensione emotiva sul rimpianto qualunque cosa è ben accetta giocate con voi trovate delle soluzioni qualunque cosa va bene aiutatevi non fai più rimpianto non fai più rimpianto non fai più rimpianto e va bene va bene lei è uscita tu va bene fai pure e un respiro trattenete differenziamo in meraviglia guardate in effetti lo stupore non è messo sapete una tecnica tecnica dello stupore è che nel momento che prendete un respiro e trattenete lo fate a bocca aperta provate stupore stupore meraviglia tenetela 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 un respiro trattenete differenziate in amore è un sentimento in questo caso veramente è sì io intendo di indifferenziato no? proprio perché è senza oggetto addirittura ciao mi piace gli animalisti è andato invece amore sto parlando d'amore trattenete fate in modo che questo sentimento possa trasparire anche dello sguardo in questo il fiato aiuta aiuta anche sentire un'energia che viene profusa dal petto questo aiuta d'altra parte ci sono ci sono anche degli studi che prevedono noi maniamo energia dai vari chakra ma senza scomodare questi argomenti è possibile avvertire concluire di un buon sentimento da qui non stare qua resta qua col respiro sguardo rilassato rialimentate questo sentimento positivo a ogni respiro a condizione che non ti aiuta di avere braccia con sette nel caso dell'amore può essere l'impedimento perché è tutto comune un respiro trattenete differenziate in tristezza aiutatevi con il guardo con la postura qui ci possono essere momenti di chiusura di mettersi in braccia con sette dico semplicemente ciò che è legittimo che accada se io mi lascio andare alla tristezza perché vado in chiusura e quindi comunico verbalmente non verbalmente e se stiamo zitti dobbiamo forza utilizzare linguaggio non verbale tenete a cercare di giocare con questa tristezza sentendola e facendola durare e rialimentandola ogni respiro con le solide caccole di prima sporcandola le caccole sono quelle sporcature che spesso si fanno senza dire niente ma possono anche essere gestuate espressive quelle che io ho manifestato prima con con energia trattenete respiro trattenete e differenziate in raffia maggiore energia il centro di energia della comunicazione e quindi dell'attore è qui è il pedale dell'acceleratore la tensione che noi imprimiamo a livello addominale semplicemente se voglio che l'emozione sia più potente non devo ricercare una causa più una causa terribile devo semplicemente dare più energia allo sforzo fisico da uno sforzo fisico si arriva a un'emozione la rabbia adesso la sperimenterete può essere questa ma se io adesso vi chiederò di dire basta basta e vediamo se è possibile aumentare l'intensità seguendo questa indicazione diventa però psicotecnica la rabbia reale la rabbia reale vabbè no è a causa scenica quello c'è basta e subito non pensateci vai un respiro trattieni basta basta ok ok vai basta vai basta vai basta vai no succede aspe eh no è sciacra tante volte dice aspe mi dicono aspe dopo basta e subito non stare qui è solo un sciacra e te mi dà anche il culo quello c'è vabbè e te per forza che te lo deve fare io li separerei e per i stigliari basta basta molto bene brava esatto vai basta no no un respiro basta è solo qui è qui basta energia trattieni vai subito vai prendi un respiro trattieni tensione traduce questa tensione in rabbia aiutati con la faccia chiaramente non posso fare eh basta non si può fa bisogna aiutarci con la maschera basta vai maschera triste prova basta equitaria prova ancora no no psicotecni basta prova non pensare fallo solo come tensione fisica e si traduce in in un uoce basta dai basta spingi di più più sforzo basta basta più di pancia lo sforzo non è qui basta basta è qui il cervello addominale domina basta è qua devo sentire gli addominani in tensione avete fatto un giro pure di già bella carica proviamo a vedere se riuscite a dare un'accelerata a questa emozione semplicemente sforzandovi fisicamente di più era il massimo quello che ti ho fatto prima di tensione di sforzo fisico io direi di no dai che si può fare di più vai basta vai basta 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 molto bene basta non ce la faccio 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 sai l'emozione positiva vai esatto vai basta vai non ce la riesco non ce la riesco facifica lei è un'anticipazione su altri esercizi che si fanno di empatia prova a imitarla senti come fa vai basta basta vedi tu sposerò lei scusa fate spegno vedi anche come si mette fisicamente eh infatti copiala basta vai vai si si devi essere lei basta no non ce la riesco prova prova vai basta vai basta vai cosa fa Diego eh lo so riusco ma non ce la riesco ma lo devi fare è solo è come se guarda tante volte lo faccio adesso non ci ho pesi di chi è questa? mia sua cosa c'è dentro? qui si rompe no non lo devo fare questo è lo sforzo che ti richiede l'hai fatto adesso? tante volte ti tiro invece cose molto pesanti sedi, armati, frigoriferi perché la soluzione è solo basta che devi fare lo sforzo fisico che ti richiesto cioè devi sopportare il peso attenzione vai basta molto meglio esatto e già anche lo sguardo cominciava a essere con la bocca curativo però che ha preso con il sorriso vai che lo fa? eh scusa come ti devo fare? eh no che devo fare se non ci riesco? non sorriso fai la faccia fai la faccia seria perfetto attenzione basta! basta! molto meglio attenta che dopo ridi subito altra cosa tante volte basta! com'è andata? non funziona così voi dovete crederci fino a tre secondi dopo no? io faccio basta! basta! e prendo un altro fiato trattengo e rimango ancora nella rabbia facciamoci un giro così che capirete meglio perché il supervisore che è quella parte di voi che vi dice ok state lavorando bene bravi si attiva non subito deve essere presente sempre però per chi comincia ve ne rendete conto se seguite il suggerimento di far durare la rabbia tre secondi oltre la battuta la battuta è solo basta però dopo non è finita siete ancora inquadrati e dovete rimanere nella rabbia quindi sarà basta! e lo tengo lo tengo respiro apnea respiro apnea può durare proviamo basta! tieni ancora tieni e la puoi la puoi rialimentare la senti? se prendi basta! sì la battuta è una sola devi restare va bene va bene la battuta è solo una tu hai fatto due livelli crescendo però dopo il primo basta sei rimasta in tensione e quindi hai avuto modo anche di accorgerti e voi siete i primi a rendervi conto che state lavorando bene giusto? hai creduto alla tua rabbia sì ma è senza causa immagino guardo te è senza causa immagino me stai arruinando capito? ed era genuina c'è bisogno di andare a chiedere a un'allieva ok dato che il personaggio deve trovare rabbia tristezza e angoscia dimmi quando tuo nonno ti ha stuprato e lui come fai a sapere e grido lo ha fatto anche a me lo ha fatto anche a me no 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 lui c'era sta parlando a me vabbè ma perché lui ha avuto un'allieva ti sei iniziata ma allora lo sapevi ma allora lo sapevi e va bocca allora un basta e poi pausa e fai durare qualche secondo ma ci possiamo aiutare con una seconda battuta? no questa adesso ti aiuta a capire che basta puoi fare una pausa di rabbia senza battute vai basta hai riso subito dopo aspetta ci stavi però hai preso un fiato a quel punto tu dovevi prendere il fiato trattenere starne lì per dirmene altre quattro e poi non dite nulla capite qual è il gioco? non mi fa parlare che resta quello? tensione mutazione più tensione di quanto occorre quando parlo spesso nelle pause si crea una condizione in cui vi sforzate molto più di quanto dovreste fare se doveste gridare allora arriva l'emozione no vabbè vai no no chiaro sto mantenendo la rabbia ma come dire? in questo modo ma non posso se faccio e vengo lì solo con uno sguardo mi è venuto a camminare così quanto arrabbiato aspetta riprova fammi questi questi quattro secondi di odio intenso dopo il basta vai basta si scrivo bene è perché sto scherzando sto giocando è tutto un gioco me lo dici subito vediamo se dura un po' di più vai lei è venuto lei ha dimostrazione di quanto il metodo possa essere espresso proprio formalmente se sta in scena deve arrabbiarsi aspetta Alessandro il regista mi ha detto che devo applicare il metodo a me si è fatto un figurone però fate il modo anche di farlo farlo cioè la rabbia ha le lacrime hai capito? emozioni negative che subito possono diventare allegria se si fa psicotecchia a me è impossibile non la stracci subito la psicotecchia comincia ad andare in panze forza vai non mi viene da ridere Dico vai tu mentre ti calma un respiro vai vai basta tieni là tieni a te da me sono l'abbia fanno ridere dai vai tu perché ci succede se no perché io vai ce l'ho girato basta e sta in campana tieni là abbi fiducia in silenzio dai provala non l'ho fatto prima no è un altro basta ma il tuo sguardo fa paura no 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 io mi cazzo sotto ci sta ci sta ci sta ci sta prova senti mettete qua io me la faccio basta basta e che cazzo no però Ale invece di parlare con te lui ha detto che cazzo finale qui c'è un psico coso non è la parola dobbiamo fare psico tec ma infatti io lo amo perfetto ottima ottima risposta va bene comunque ci stavi e non c'è bisogno di dare la seconda aspetta ma che hai fatto senta guarda sempre lui basta attento è quello è il mio difetto ho gli occhi a pesce palla io ho un blocco ma gli occhi a pesce palla vedi vedi che tu pensi alle cose che nessuno pensa sono tutte tue sono due stavo dicendo che adesso a pesce palla che per un attimo hai rilassato c'è stato un calo di tensione e poi ripreso invece adesso rifalla e non mollare la tensione dai basta tienila tienila rialimentala prendi il respiro trattieni molto bene brava senti che funziona dovete essere voi per capire che sta funzionando ci credi no alla tua rabbia fai basta era un po' porisincrono no basta ok allora è così basta è leggermente fuorisincrono basta no prima anzi no fuori no prima prima l'ha detto a voce fuori dopo nella bandita gesta fuori è rafforzato dopo che te l'ho detto è vero è un sottolineativo non rafforzato dopo che te l'ho detto è così dopo che te l'ho detto è così vedi che adesso c'è andata subito e basta ti è spaventato per lui stai creando dei mostri tra i mariti e i mogli che vengono a casa tua va bene vai io non ce riesco basta ma perché non ce riesco perché hai un blocco e io uno non esprimere la rabbia hai paura di esprimere la rabbia ma no qui si tratta semplicemente di fingere è una professione meccanica prendere la borsa basta è la borsa che mi arriva state ancora qui quando vi bloccate perché state qui voi non potete stare qui voi non potete stare qua perché si dice che l'attore va di pancia perché lavora con il cervello addominale ma non gliel'hanno spiegato in genere non lo sa ma va di pancia che vuol dire vuol dire che stai producendo le sostanze utili all'azione da qui non da qui qui vengono prodotte il 90% delle sostanze utili in caso di attacco, difesa e fuga vengono prodotte dal secondo cervello che è qua e queste sostanze si attivano anche semplicemente semplicemente come ci parla già si attiva semplicemente facendo quello che definisco il retroingegneria dell'emozione cioè dagli effetti collaterali fisici ricostruisco la causa è per questo che è importante truccarsi assumere l'atteggiamento posturale corretto perché già quello comunica l'emozione vi aiuta in più applicate l'attenzione che vi sto dicendo può essere l'accensione di ogni attività di comunicazione ed è fatta non c'è bisogno di prendere altro basta! è immediato non c'è basta! sì però è basta! invece è basta! è qui tensione e aiutati metti in tensione basta! basta! è che l'occhio ancora non partecipa ma insomma guarda lei ma sta nella radia non esce che cazzo da niente non è vero basta! 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 ma basta! vedi cosa vedete cosa fa? no no ma è normale adesso è giusto pure che accadano questi momenti per sfidarvi se io faccio basta! cosa sta comunicando il linguaggio in bambale? meglio così! però così era boh non lo so invece basta per sta bene ma questo che hai fatto tu prima basta! mi sono fermato ma sembrava un sottotesto altro sembrava che ma lo devo fare sempre da piacere non mi sembra come una rabbia sempre sarebbe basta! non so se basta non lo so se basta diventa un'altra cosa capite? se noi cominciamo a lavorare su un atteggiamento che assumete possiamo divertirci a ricercare guardate come le spalle si sollevano a ricercare l'emozione giù di riferimento boh basta! mi viene da di basta? non è basta! dai basta! non ci riesco di ranzo basta! basta! più rabbia basta! 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 va bene fai così allora amplifica questa basta! basta! molto bene più sforzo fisico aumenta l'intensità basta! molto bene ancora di più basta! brava meglio anche se l'occhio mi tanto torna a ridere oh questa è una rabbia dai decidiamo adesso non vedi l'ora eh e dobbiamo fare dobbiamo facciamo a coppia io quest'anno buoni ci partimmo ci manco di sciapotte veramente adesso ci fa fare allora aspetta 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 allora beh un respiro trattenete e proviamo a differenziare in indifferenza cioè un'assenza di emozioni il sospirare può aiutare no? ma sì tanto indifferenza tutto quindi come sarà? come resta? dopo chiaramente la differenziazione dell'emozione dovete respirare eh dovete giocare con quella differenziazione in corso e vedere Massimo un respiro trattenete differenziazione in benevolenza aiutatevi sempre con un accenno di sorriso nei vostri confronti amor proprio un volersi bene un trovarsi giusti così come siamo e vi aiuta sorridere perché deve essere benevolenza sincera vale tu hai la stessa faccia per la benevolenza e la rabbia no mi sto guardando allo specchio benevolenza però la stessa espressione la rabbia l'ha fatta bene e guardava te mentre la faccia non voglio dire altro l'ha fatta bene l'ha fatta bene quindi hai fatto bene anche adesso a simulare un guardarsi allo specchio e vedersi a posto certamente continuate continuate esaltare questa emozione positiva prendete un respiro tantemente per farla diventare gioia dovete veramente spingere senza far uscire aria come se avessimo vinto ma non vorrei applicare una causa reale no però se vi dicessi avrei vinto un milione di euro un po' di gioia aiuterebbe la gioia anche senza l'importante che sia vi è arrivata improvvisamente la gioia che vi aiutate aiutatevi col sorriso che ammazza il pieno di gioia il pieno di gioia il ricordo il ricordo di una gita scolastica a volte riesce a bereggiare la prima lettura avrete le emozioni di riferimento che sono quelle che avete sperimentato adesso scritte in eretto prima della battuta perché voi dovete applicare il metodo e quindi differenziare prima dell'emozione e poi leggere voi dovete leggere sull'emozione di riferimento differenzio e quindi c'è quella situazione iniziale di citazione mi ricordo di una gita scolastica e vi do però già un gancio qui si parla di un ricordo di una gita scolastica in cui certamente l'interesse non era per la reggia di Caserta ma perché sul pullman c'era un ragazzino è quello per cui giocare di anticipo anche su quella che è reale sottotesto il primo il primo pezzo dice mi ricordo di una gita scolastica eravamo state alla reggia di Caserta durante il viaggio di ritorno in pullman era sera se uno dovesse cercare a naspare a cercare qualche emozione di riferimento senza metodo potrebbe non so focalizzarsi sul fatto che stai su un pullman che sta andando alla reggia di Caserta come se fosse quella importante visualizzo eravamo mi ricordo di una gita scolastica non sai manco qual è l'emozione mi ricordo di una gita scolastica no la dritta che vi do è eccitazione perché è il punto di richiamo cioè era sera un mio compagno una mia compagna di classe mi sedeva accanto e tra parentesi non dovete leggere perché il suono di Tascalia dice ricorda con un pudore giocoso senza entrare nei particolari beh erano le prime cotte l'altro sesso era tutto da scoprire quello è il motivo per cui siamo eccitati e già l'eccitazione diventa il sottotesto di eravamo stati alla reggia di Caserta cosa che può succedere se voi dovete raccontare di qualcosa di divertente che è successo è possibile che dobbiate dire dove è successo ma non è che vi cominciate a eccitare quando dite il fatto probabilmente l'eccitazione c'è da prima no ti devo dire una cosa che sono stato il primo sono stato alla reggia di Caserta domenica scorsa e già lì c'è l'anticipazione di quello che stai per dire e questa è la grande recitazione quindi chi vuole essere la prima il primo? io molto bene scontente va via subito ascolta poiché devi aiutarvi tocca sta in piedi? no stavo per dire questo attenzione ma lo reggio tutto quanto vuoi sì questo qua solo questa parte qua poi no e poiché è importante aiutarvi no no per me non devi stare in piedi che se stai in piedi ti ho fatto una lettura io a volte questa la faccio pare che stanno pure per terra che tipo una cosa del genere potrebbe essere almeno hai modo di comunicare le parti di imbarazzo puoi fare quelle caccolo e le sporcature utili anche se c'hai il testo capito invece in piedi come un fuso riesce meno già andava meglio seduta sul tavolo già andava bene allora ad ogni emozione tu devi fare in modo che il corpo comune non posso restare dall'inizio al fine così a leggere perché non riuscirà nel momento di chiusura si puoi anche ma quando c'è apertura quando le emozioni sono positive da così assolutamente così quando pensi di specchiarti così non così ma disponibile se c'è chiusura chiudi pure mi ricordo di una gita scolastica eravamo state alla reggia di caserta due no va bene aspetta ma perché questo è un uomo che parla una donna traducilo un mio compagno dovrei dire un mio compagno tutto ciò che era maschile che era femminile ma noi siamo gay friends no perché io uomo cioè io donna non direi così ho capito mi ricordo eravamo a mia compagna di grazie mi dice beh erano le due mie costi ma donna non parla così ti assicuro ti assicuro che lo hanno fatto già decine più persone e lo hanno reso possibile incredibile erano brave non fare non sovrastrutturarti cioè lasciati andare che già è ripartita bene pensa all'emozione vediamo come va concentrati su quella e dai sei un po' più pepata no? ti ricordi questa cosa chi è citata? mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di casetta durante il viaggio di ritorno in Pullman era sera una mia compagna di classe mi sedeva accanto beh erano le prime corte l'altro sesso era tutto da scoprire bei tempi aspetta questa è un foggia giusto? si fanno ancora meglio devi prendere un respiro e devi prendere un respiro però in questo momento sembra quasi un mannaggia sembra un po' mannaggia si ha ragione quindi vediamo se riesci a prendere ancora meglio dei tempi ragazzi mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di casetta durante il viaggio di ritorno in Pullman non ve lo dico proprio era sera una mia compagna di classe mi sedeva accanto beh sapete erano le prime corte l'altro sesso era tutto da scoprire bei tempi però c'era un'altra ragazza di lei ero proprio innamorato ma non l'ho mai saputo la vedevo così irraggiungibile io ero così brutto lei era la pratica del liceo ma non ho mai trovato il coraggio sta aggiungendo a frasi che non ci sono peccato ah ma poi l'ho rivista pochi anni fa ma era così ingrassata e l'impianto mi è passato Paola pazzesco quant'era ingrassata per un attimo è inghiacciante quello che dico è inghiacciante io che la conosco ti posso assicurare che è molto simile a una realtà è come se stesse raccontando un suo ricordo si no sta aggiungendo delle cose che non ci sono io trovo assolutamente bezzuoso questa operazione di sua scrittura di ribellione di ribellione ma si ma tu impensa soltanto al sottotesto capite dove sta lei sta cercando di intervenire per giustificare e ricostruire qualcosa che sia più giusto e sta qui mentre vi dimostro che questa cosa può essere stata fatta mille volte mantenendo il testo anche inalterato e lì il gioco purché l'emozione sia sincera se lavorate con l'emozione non vi sembrerà strano essere altri da voi il problema è questo io non direi queste cose ma un attrice deve poter dire tutto ciò che potrebbe dire altri da lei per cui non c'è bisogno di aggiungere le cose che aggiungevi sì c'è stanno non c'è stanno ma non è importante non ti affidare a quelle non servono ero proprio come l'avevo lasciata uguale uguale però sarebbe stata una bella storia d'amore questo amore era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale però sarebbe stata una bella storia d'amore avete differenziato in amore prova a fare questo salito esagera spingi di più differenzia di più era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale sarebbe stata una bella storia d'amore in quante cose avrei dimostrato più coraggio mi fa rabbia scoprire di essere ancora così madonna intanto ci sono abituato ma in fondo non sono così male mi devo voler bene e perdonarmi ci sono stati anche bei momenti adesso lì un po' di più e mo ci sarà gioia no no ma sulla benevolenza anche ti aiuta no? ci sono stati bei momenti dai assurda te butta giù in fondo non sono niente male mi devo voler bene anche perdonarmi ci sono stati anche bei momenti la vita è meravigliosa vabbè 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 è una prima lettura non sembra tanto letta e già sembra un po' interpretata ha tirato dritto alla fine perché qui l'ho lasciata così difficile dire la vita è meravigliosa è tosto forse perché viviamo in questa realtà per cui è difficile è difficile ma possibile basta differenziarlo in quell'emozione dai dico questo non una donna 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 sono stratico meglio portato ah vai dai facciamo in senso antioral no no io ma io non sono ma non è ma cosa io voglio vedere come ti parla anche per te dove ti trovi più tu altro la seguo se voi non lo vuoi devi dire però ecco sì tu puoi stare in seduta però ecco però sta in piedi è meglio però partecipa anche col corpo cerca di aiutarti certo sarebbe opportuno avere la memoria a me non sarebbe semplice però anche un po' come se fossi una doppiatrice alloggio un po' di momento ti è lì no mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di caserta durante il viaggio di ritorno in pullman e la sera una mia compagna di classe mi sedeva accanto e beh erano le prime cotte l'altro sesso era tutto da scoprire dei tempi però c'era pure un'altra ragazza e di lei ero proprio innamorato ma lei non l'ha mai saputo la vedevo così irraggiungibile non ho mai trovato il coraggio peccato ah ma poi l'ho rivista sì no in effetti no va bene sta andando molto bene e questo stupore ah no poi l'ho rivista non sembra ah dai stupore che l'hai rivista ma stupore un po' più non basso stupore ah ma poi l'ho rivista pochi anni fa era così ingrassata Paola pazzesco era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale però sarebbe stata una bella storia d'amore in quante cose avrei potuto dimostrare più coraggio mi fa rabbia scoprire di essere ancora così ma no tanto ci sono abituato in fondo non sono niente male in fondo non sono niente male mi devo voler bene e perdonarmi ci sono stati tanti bei momenti la vita è meravigliosa no bene per essere una lettura che comprendete che c'è c'è tante difficoltà sapete dove appare il testo se bene l'abbia letto lei ma insomma nessuno fa una prima lettura così espressiva quasi a volte ben interpretata e la sta solo leggendo e la sta solo leggendo vi faccio notare questa perché poi magari fate bene e non vi rendete conto sta riuscendo già facile a far bene perché state applicando una tecnica che non è ancora vostra non è non va in automatico ma tu hai già prodotto un bel zuccato no? loro sono testimoni di questo è ricredibile non sembrava letta lei non la riprende Gianni lei mentre fa la cosa se lo fai chiudiamo vai prego dai Diego un uomo quando vuoi vedi altri uomini dai no ti vedi tu dai Diego dai chi va Diego sto ancora tremando dall'urro di Diego vai sta andando vai vai dai 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 ma quando vai lo fa sempre no no però ti voglio un po' più per terra no sì magari no vabbè lascia sta no scusa la donna ah perché ah impedenti però la vita è meravigliosa ok mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di caserta durante il gaggio di ritorno in pullman era sera aspetta che reggia sta applicando non so quale metodo nessuno c'è stato i puntini ti ti no ma che sarà la fa quello allunga l'arie e tronco le mani sembra che stai andando verso una direzione e poi io tronco le mani maestro scusi c'è un puntino sì no io sto ricordando mi riferisco al discorso di prima l'eccitazione è una cosa allegra che mi ricordo con piacere invece te fammi capire un po' che stava spiegando eh no no non è vero con piacere particolarmente poi voglio vedere la registrazione eccitati allegra va bene allora mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di caserta durante il viaggio di ritorno in Pullman era sera una mia compagna di classe mi sedeva accanto beh erano le prime cotte eh e l'altro sesso era tutto da scoprire eh bene però c'era un'altra ragazza e di lei ero proprio innamorato ma non l'ha mai saputo la vedevo così irraggiungibile e non l'ho mai trovato il coraggio ah ma poi l'ho rivista eh pochi giorni fa era così ingrassata pazzesco era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale però sarebbe stata una bella storia d'amore e quante cose avrei dovuto dimostrare più coraggio e mi fa rabbia scoprire di essere ancora così ma no tanto ci sono abituato ma no non sono niente male mi devo voler bene e perdonare e ci sono stati tanti momenti belli la vita è meravigliosa brava 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 rimarchi se fosse piatto sarebbe perfetto perché a distanza che si capisce pure all'ultima fila in cinema un regista cinematografico le chiederebbe di fare meno questo è quello che ancora ma l'emozione non ne risentirebbe cioè ha di fiducia quella cosa che ti sto dicendo perché comunque passerebbe anche senza tutte quelle dei movimenti dei chi fa come a bocca come a bocca ma nessuno adesso tuttora nessuno sta facendo una lettura da da scolastica no da me legge da 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 no semplicemente perché lavorate con l'emozione o almeno ci provate già il tentativo sortisce risultati andare ma eccitazione viene bene comunque non farà psicotecnica ma sicuramente psico 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 molto poco molto poco perché noi noi produciamo le emozioni le emozioni sono tante però scaturisce ma non c'è nulla che rimasta no certo però comunque ognuno secondo me va a cercare scusate scusate c'è l'estia in contatto sono mio perché se ci vedo per il camion non ci vedo per il rego e se ci riesce non vado a cercare però l'invito è a provare una via alternativa perché c'è una cosa non la bella io ci vedo che devo fa c'ho dei grossi problemi non sono quindi però non ci vedo no perché ho le lenti a contatto capito che correggono la miopia ah è da vicino capito se è possibile intanto io non ci riesco quindi partiamo con questa cosa che devo fare non è il passo giusto tanto non ci riesco già il metodo esclude questo purtroppo oggi stiamo semplicemente giocando in realtà se avessimo tempo noi inizeremo a lavorare passo dopo passo cominciando anche da affermazioni diverse io non inizio una cosa tanto non ci riesco perché vince lei vince non ci riesco nessuno potrà obbligarti a far bene se tu parti ti hai sbagliato invece prendi le sbagliate tu devi differenziare allora c'è da dire un'altra cosa quando prima ti facevo l'esempio della fragola io non riesco neanche a leggere in chiesa bisogna 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 sovrascrivere la paura con altre informazioni prima facevo a lei l'esempio non pensare ad una fragola rossa non pensate ad una fragola rossa non pensate ad una fragola rossa io pensate tutte a una fragola rossa capito è impossibile quindi non devo avere paura non funziona perché l'inconscio non legge le negazioni non è che se io ripeto non devo fare questo non devo fare questo mi impongo di fare l'alternativa positiva no l'inconscio registra è che io temo quella cosa e me la metterà davanti tutti i giorni della mia vita per cui assolutamente non funziona a temere qualcosa se avete paura di qualcosa quella cosa ci sta andando gritti a 300 all'ora voi dovete però fare qualcosa allora non posso alzarmi e dire non ce la faccio tanto non ce la faccio che devo fare? se vai così vince la linea di minor resistenza che quella della paura vediamo di sovrascrivere la fragola rossa o non devo fare questo oppure ho paura con situazioni visualizzazioni informazioni positive intanto differenzio il coraggio se non ce l'ho lo fingo applicando il metodo è un po' il discorso che si rifà la PNL in quel caso prendo un modello e faccio specchio con qualche figura di persona di successo fisicamente la postura tutto deve essere identico a quello anche l'anima di il fiato e quello già sta comunicando lo avete sperimentato come prima già aiuto il mio organismo a credere a quell'emozione quindi intanto prendo un respiro e già semplicemente alzarsi dalla sedia un altro esercizio è un altro esercizio che facciamo proprio l'ABC tante volte che la motivazione e il coraggio qual è l'esercizio che io faccio fare per il coraggio buttate fuori tutta l'aria buttate la cuore e alzatevi subito mentre state buttando fuori l'aria ora sedeteli rifate l'alzata dalla sedia ma prendendo il primo respiro trattenendo e solo nella pannea rialzatevi via notate la differenza la differenza è che siete più motivati cioè voi vede accomunata energia e quando trattenete il fiato l'energia diventa motivazione la prima motivazione presente la prima trasformazione spontanea di questa energia che noi con coscienza utilizziamo è il coraggio perché quando uno si fa coraggio normalmente ma basta prende un respiro trattiene salsa e passa l'azione è semplicemente ciò che avviene già in natura accade già questo in natura noi dobbiamo semplicemente farlo diventare metodo osserviamo la natura e la rendiamo ricroducibile la prima cosa che deve fare lei non boh e mentre dice boh tira fuori l'aria si alza mentre tira fuori l'aria no dobbiamo sapere fare prima di andare in scena si vai e devi fare non è questo che viene richiesto dovete poi occultare la tecnica il metodo è già così prendo un respiro e mi alzo ma poi lo vedo a vedere ora lo facciamo vistosamente affinché si capisca quindi prima di iniziare semplicemente prendi un respiro trattieni ed è già coraggio quello e poi comincia a differenziare le altre emozioni mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di Caserta e durante il viaggio ritorno in pullman era tira con una mia compagna di classe no scelgo andava molto bene una mia compagna di classe mi sedeva accanto erano le prime cotte l'altro testo era tutto da scoprire bei tempi decisamente però c'era anche un'altra ragazza e di lei ero veramente innamorato lei non l'ho mai saputo la vedevo irraggiungibile non l'ho mai trovato il coraggio mai peccato poi l'ho rivista pochi anni fa era ingrazzata Paola pazzesco era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale sarebbe stata una bella storia d'amore in quante cose avrei dovuto dimostrare più coraggio mi fa rabbia scusate si fa rabbia proprio stai facendo un ottimo lavoro la rabbia non gli esce adesso aspettavo perché ha preso il via mi fa rabbia essere ancora così mi fa rabbia essere ancora così mi fa rabbia mi fa rabbia potete dimmi te ma ho di filetto mi fa rabbia attenzione vai mi fa rabbia essere ancora così ma no tanto ci sono abituato in fondo non sono niente male mi devo voler bene e perdonarmi ci sono stati momenti belli la vita è meroglio è solo questa sera però la prima cosa è brava molto bene perché la rabbia che sei molto bene è bene sulla rabbia ci ha dovuto tornare volte ma non mi piace niente chi va? dai un uomo ci sono tutti dai dai allora c'è poca registrazione sono le 8 vai e non venono qua e vai no perché gli uomini non c'hanno questo dai prova dai vai prova scelta dai il coraggio guarda il discorso del coraggio mi ha detto dopo manca lei guarda sotto ogni cosa fai questo io non lei dal primo all'ultimo soprattutto l'avvocato libri tv un gran bigliacco Gerardi un gran bigliacco che mi ha mandato qui a fare questa cosa ma Gerardi lo fa domani no Gerardi è un bigliacco ma la prossima notte lui sto immagazzinando dati vai è un immagazzino quindi ho fatto a meno paura basta basta io lo so fare molto buono a ogni cambio di emozioni utilizzare il metodo di basso è cercato pure lui eccitazione mi ricordo di una gita scolastica eravamo stati alla reggia di caserta durante il viaggio di ritorno in pullman buonasera una mia compagna di classe mi sedeva accanto e beh erano le prime cotte l'altro sesso era tutto da scoprire bei tempi però c'era un'altra ragazza e di lei ero proprio innamorato ma non l'ho mai saputo la vedevo così irraggiungibile non ho mai trovato il curaggio peccato ma poi l'ho rivista pochi anni fa era ingrassata paola pazzesco era proprio come l'avevo lasciata uguale uguale era proprio come la faccia eh ma però sarebbe stata una bella storia con tante cose avrei dovuto dimostrare più coraggio mi fa rabbia scoprire di essere ancora così ma no tanto ci sono abituato in fondo non sono niente male mi devo voler bene e perdonarmi ci sono stati tanti momenti belli grazie a tutti è meraviglioso bravo 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 la mitra grazie 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 io voglio l'oscar io voglio l'oscar Uscite, entrava dal personaggio, senza perdere il personaggio, fantastico. Io sono scongolta. E che sai che se lo fongi? E che se lo fongi? Hai capito? Grazie, è un bel lavoro fatto. Quindi tutte le volte che parlo con te non sai se dico la verità o sto fingendo. Anche io ho lo stesso dubbio. Dete stronco, sto fingendo. Siamo. Dottoressa? Oh, mi ricordo di una città scolastica. Eravamo state la regia di Caserta. Durante il viaggio di ritorno in Puma, la sera, il mio compagno mi si è seduto accanto. E che vuoi? Eram le prime gotte. L'altro sesso era tutto da scoprire. Beh, e qui, eh. Però c'era anche un altro ragazzo. Ebbè, di lui ero proprio innamorato, eh. Lui non l'ha mai saputo. E come devo così irraggiungibile? E io non l'ho mai trovato. Cazzo, eh. Oh, ma poi l'ho rivisto. Mamma mia. Era così ingrassato, Paolo. Pazzesco, eh. Oh, come l'avevo lasciato. Uguale, uguale. Scusa, tanto lo riprendi, lo devi riproporare. Più ironico. Uguale, uguale, eh. No, come l'avevo? Uguale, uguale, cazzo. Oh, così l'ho ritrovato. Sembra vero. Invece più ironia, più sarcasticamente. Era uguale, uguale, uguale come l'ho lasciato, eh. Sempre in sarcastico. Oh, era uguale, uguale, eh. Ebbè, devo sfotterlo. Riti, provate a farlo con la pressione. Almeno arriva tutti più chiara. Ridici sopra, mentre lo fai così. Provati perché. Oh, ma poi l'ho rivisto pochi anni fa. Era ingrassato. Uguale, uguale come l'ho lasciato. Siamo in te. Siamo in te. Però sai, sarebbe stata una bella storia d'amore. Eh no, questo non è amore però. Ah, però sai, sarebbe stata una bella storia d'amore. No, veramente, io l'amo veramente con tutto me stesso. E devo farla miglarezza adesso. Prendete il tempo giusto però, col sospiro. Cioè, beh, se devo dire, però, mi prendo il tempo per differenziare il tempo quanto basta per dire, sarebbe stata una bella storia d'amore. Però un po' gallo così. Beh, anche, volendo. Prova un bel sospiro, coraggio. Oh, ma poi l'ho rivisto pochi anni fa. E l'ha ingrassato. Uguale, uguale come l'ho lasciato, eh. Però sai, sarebbe stata una bella storia d'amore. E in quante cose avrei dovuto dimostrare più coraggio. Mi farò una rabbia sapere di essere ancora così. Tanto ci sono abituata, eh. Ma in fondo non solamente vale. Ma dovrei perdonare, volermi un po' più bene. Ma la vita è una cosa meravigliosa. Sì, allora, va molto bene. Brava. Brava. Nel finale, nel finale, siate più benevolenti. Sembra più un augurio di essere, ti speri. Però avanti in cui ti sei allontanata, la vita è meravigliosa. Io, come regista, vedevo una finestra aperta e i potenti punti di sotto. E io sai cosa vedevo? È vero. Sai cosa vedevo? La vita è meravigliosa, eh. Vedevo una porta aperta e io non uscivo nel buio. Nel buio. Capito? Sei una depressa, non sei la vita meravigliosa. Non potessi aperto il commento, Baro. Baro. Caila, hai comunicato emozioni. Non ce l'hai ancora in Baro. Nel finale, l'emozione, la benorenza, la gioia. Erano interessanti perché portano ad un altro epilogo. Invece deve essere benevolenza e gioia genuina. Ho vinto. Non che ho visto una cosa. Io ti ho detto alla finestra, te infatti hai visto l'uscita verso il buio. Mi vedevo prendere le chiavi e uscire nel buio di una porta. Me i coglioni. Vabbè, però era... Sì, sì, come bello. No, perché il buio, non il buio come cosa negativa. Il buio come qualcosa che tu non sai dov'è. Va bene, va benissimo. Va bene, infatti non è... Lasciava diverse interpretazioni. Però la cosa più bella è vedere se riuscite la benorenza a diventare proprio... Domani. Vieni da gioia. Domani saremo gioiosi. Eh, Gerardi. No, manca Gerardi. Gerardi, 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 Gerardi. No, vai. Lì è il coraggio. No, ma è il coraggio che non lo fa. Allora dite tutti in coro. Cor-la-cio, ne è cor-la-cio. Eh, infatti, cor-la-cio. No, no, io sto... Mi avete messo in mezzo tra te e quell'altro. Io. Voi vergognatevi, mi stai riprendendo, vergognatevi in due. Mi avete mandato lì alla berlina, senza la spagna. Non lo farei mai. Saranno passati 50 minuti. Quanto è passato? Un'ora e dieci, guarda. Un'ora e dieci. In un'ora e dieci siete quasi a due. Eh, grazie! Però nessuno di voi ha fatto brutta figura. No. Ma perché siamo tra amici, capito? Mi dicevi che non sei pubblico. È questa cosa, anche se fosse stato pieno. Dici? Dici? Io penso che sì. Anzi, più siamo, meglio stiamo. Ma domani che c'è più... Forse costa... Cioè, c'è la difficoltà con poche persone... La difficoltà per andare a... Ah, per quanto riguarda me, vi dico. Se fosse stata piena la sala, sarei partito molto più allegro. Cioè, a me fa piacere che ci sia proprio tanta gente. Già il fatto che ci siate voi amici... No, ma dico, ma per chi va lì e recita... E me... Se applicate il metodo, non c'è distinzione tra 5 o 5.000. Bisogna arrivarci a questa consapevolezza. Ma nel momento in cui tu hai il metodo e senti che stai lavorando, hai già sovrascritto... E in più, non ho tempo, ci sono tanti altri esercizi che si aggiungono a questo in base. Non basta questo. C'è la visualizzazione, c'è un riferimento ai vari aspetti del primoglio. Mentre le caccolate, non lo spiega anche della luna. Guarda, la visualizzazione... Intanto, le caccole le avete fatte tutti. Le scaccolate... Produttori di caccole. Quindi tutti avete giocato e avete capito quanto è utile prendere tempo, riempendolo con un sospiro, una sporcatura. Chi era? Chi era? Chi era il padre delle caccole? Nel teatro italiano? Totò. Totò anche, ma... Edoardo, proprio, stava lì col fazzoletto, quanto si scalcolava quel fazzoletto, se potesse parlare, non so se avete in mente qualche registrazione. Stava sempre con questo fazzoletto. Ma a proposito, ricorrere a qualche attore per imparare, per vedere... Per esempio, il Basta di prima, ma ha fatto venire subito in mente Gianni Agus. O Gaston. È sempre utile prendere... Stoffa. Ritoniamo la PNL, no? Sempre utile trovare dei modelli vincenti, nei quali ci identifichiamo. Mi piacerebbe farlo come lo fa lui. Bene, comincia, poi però percori la tua via. Certo, certo. Ma certo che bisogna emulare i più grandi. Rubare, si usa questo termine, rubare il mestiere ai grandi attori. Io mi ricordo che iniziai, facevo una giornata particolare, regia di Vittorio Caprioli, e c'erano in scena Giancarlo Sbaglio e Giovanna Ralli. Io dovevo fare il fio della Ralli, ma semplicemente era una giornata particolare per cui, non so se avete presente la storia. Sì, lui era una versione geolografica di Ettore Scola, credo. E in realtà, eravamo all'inizio e alla fine della storia, era solo da loro. E io stavo dietro le quinte, a vedere questo, in realtà, stavamo intorno a me, tutti i giorni, uno, due e tre, poi entrava, carico, dai. Portiera! Portiera! Mi ricordo il modo in cui chiamava la portiera. Cioè, cazzo, fa sempre lo stesso modo, la stessa energia. Ogni giorno? No, rendere riproducibile. Qual è il segreto della riproducibilità di una battuta? Non abbiamo molto tempo oggi, ma magari domani potremo parlarne. Il ritmo. Fare in modo che una cosa venga sequenziata secondo me. E tutto a questione di ritmo. Se io riesco a trovare la giusta cadenza di un'azione o di una battuta, domani la rifarò allo stesso modo. Tante cose ci sono. Un nuovo dia a dia. Grazie! 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 Grazie!